Sono quattro le condanne che ha visto alla sbarra la mafia del ballone. La prima sezione penale del Tribunale di Caltanissetta, presieduta dal giudice Francesco D'Arrigo, ha disposto quattro condanne e una soluzione nel processo iniziato in seguito alla maxinchiesta del gennaio di quattro anni fa denominata Gallo d'Oro. L'attività di indagine, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia ed eseguita dai carabinieri del ROS, si è focalizzata sulla famiglia mafiosa di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Secondo gli inquirenti, Calogero Modica sarebbe ritenuto il capo mafia di Campofranco, anche sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Maurizio Adigati, Ciro Vara e Maurizio Currabba. L'ottantenne è stato condannato a sei anni, è stata accolta quindi la tesi della difesa che ha permesso all'imputato di essere prosciolto dalle principali contestazioni che lo hanno visto imputato come capo e promotore dell'organizzazione, riconosciuto soltanto come affiliato, banda armata e l'impiego di proventi illeciti. Per questa ragione l'accusa aveva chiesto nei suoi confronti una condanna a 18 anni di reclusione. L'uomo, da quattro anni domiciliari, è stato scarcerato. Nello stesso processo sono stati imputati anche due agrigentini, accusati di associazione a delinquere finalizzata allo paccio e alla cessione di droga. Salvatore Puma, di Racalmuto, è stato condannato a sei anni di reclusione e 26.000 euro di multa, mentre è stato assolto, per non aver commesso il fatto, Carmelo Conte, originario di Casteltermini. Il Tribunale ha disposto inoltre la condanna nei confronti di Salvuccio Favata, di Mussomeli, a otto anni e due mesi di reclusione, e Giuseppe Gioacchino, di Carlo, di Campofranco, a sei anni e sei mesi.